Piccole schede da leggere mentre si aspetta il medico o il turno in farmacia, da portare a casa per condividere con la famiglia. Sono le pillole di educazione e informazione sanitaria distribuite nei centri medici di sistema salute e negli ambulatori dei medici di famiglia. Sono delle piccole schede che noi abbiamo fatto di informazione, sono delle schede molto semplici che sono state ideate da dei medici di medicina generale e che sono semplici e anche chiari in modo che possano essere rivolte a tutte le persone e tutta la popolazione. Abbiamo iniziato con sei schede utilizzando sei argomenti che sono di risonanza generale per poi piano piano affrontare anche altre tematiche che in questo momento sono particolarmente sentite da parte della popolazione. Sei gli argomenti fino ad ora trattati con l'obiettivo di fare informazione corretta. I dati, le fake news, le informazioni spesso per il diragante consumismo sanitario non sono affatto corrette. Siamo partiti da queste sei pillole. Il primo è quello del mal di schiena perché è un falso problema, perché il mal di schiena non è una malattia, è una condizione del genere umano e viene vissuta come una malattia dalle persone, invece è una condizione che passa nel giro di qualche giorno senza grossi problemi e senza bisogno di fare questi accertamenti costosissimi per la salute pubblica e per il cittadino stesso, per esempio. Abbiamo scelto le intolleranze alimentari perché è un altro momento di fake news che ci fosse le intolleranze alimentari sono davvero poche. I protagonisti delle pillole sono Mister e le Pillola, che nei prossimi mesi parleranno anche altre lingue. Grazie.